E io come un deficiente, come un deficiente perché sono deficiente, perché chi nutre false speranze nonostante ha un quadro abbastanza completo della situazione e chi continua, come ho detto prima, a nutrire comunque false speranze, è un deficiente e mi posso neolaureare in deficienza, io alla fine ci speravo, io alla fine speravo che, che ne so, un Zagadu, un Zagadu, visto che poi Akanshi, Akanshi l'ha preso poi il City, l'hanno preso, noi ci mettiamo gli occhi ma niente, l'ha preso poi il City, però dice un Zagadu, sai, è svincolato, non abbiamo preso nessuno dietro tanto alle 20, quindi finisce il calciomercato e allora sai che forse alla fine andiamo a prendere da svincolato Zagadu? Manco per il cappero, manco per il cappero, niente, si sblocca Cervi e dopo Correa, dopo la Pantera Chisedo, nuovo giocatore ex Lazio per Simone Zagadu, che sarà indubbiamente felice di riabbracciarlo. Ma parliamo anche di altre trattative ragazzi, perché oggi finalmente si chiude sta tarantella, sta musica folcloristica, finalmente! Che non c'ho nulla contro, anzi tutt'altro, visto che tradizionalmente è anche apprezzata qui da me, però parliamo di tutto, queste pillole di calciomercato e siamo in chiusura, finalmente! Sono arrivato, voi dite Nesco e i capelli bianchi, no, li sto perdendo i capelli, no i bianchi, li sto perdendo! Li sto perdendo! Prima di partire, come al solito, vi invito a lasciarne un like, a iscrivervi se volete seguire i prossimi contenuti, lo sapete bene, è una solita fila strocca, però va sempre ripetuta, va sempre ripetuta, perché voi non siete così a volte buoni d'animo, e se non ve lo si ricorda, vi assopite come giusto che sia, e vi ne ricordo anche OneFootball, così andate a vedere tutte le trattative, andate a fare un recap, tutte, nessuna esclusa, si chiude e si fa il resoconto, poi ci sono anche le live, ci sono tutte le notizie, lo sapete bene, l'app è gratuito, quindi cosa aspettate? Provatela, testatela, poi mi fate sapere, mi dite? Acerbi, Arthur, Pionteca la Salernitana, ne abbiamo di cose da dire, ne abbiamo, partendo da Acerbi, quello che penso in merito alla trattativa, già c'è un video, c'è già un video, è inutile che mi dilungo, però dico anche un'altra cosa, se è vero quello che filtra, perché poi oggi tutti che danno 50.000 notizie, ma nessuno come al solito che dettaglia, no? Che fornisce un dettaglio, un approfondimento in merito, perché Acerbi, ok, ma davvero si parla di 2 milioni e mezzo? Cioè prestito con diritto di riscatto a 4 milioni? Delitto di riscatto a 4 milioni? L'ingaggio 2 e mezzo? Come si parlava di 1 e mezzo, adesso si parla di 2 e mezzo? Fortunatamente, dico fortunatamente, lo riporta Sport Italia, fortunatamente, dico fortunatamente perché Sport Italia... eh? Ne avete capito? Vi devo dilungare, devo gesticolare, forse per essere più comprensibile, quindi vorrei anche in merito a ciò, vorrei altre delucidazioni, 2 e mezzo lordi, perché magari poi si vanno ad arrampicare adesso così, no? Manetti, sì, ma lordi, no? Ma decreti, ma quelle e quelle altre ci forniscono tante informazioni dove si dice tutto, ma in realtà non si dice niente, quindi vorrei sapere qualcosa in più, perché se davvero si dà 2 milioni e mezzo a Acerbi, francamente c'è qualcuno che si deve dimettere, c'è qualcuno che si deve dimettere, qualcuno almeno, non dico, ma qualcuno perché se abbiamo dato un 34enne che deve venire a fare la riserva, giusto per coprire un buco, non dico, non dico, anzi, lo dico, dovreste un pochettino lavorare di scouting, un pochettino, no? Però, se davvero per accontentare Inzaghi dobbiamo andare a spendere 2 milioni e mezzo di ingaggio per Acerbi, onestamente dico, forse il mestiere a questo punto lo faccio meglio io, dico, eh, dico, ma tutto, tutto, tutto qua. Poi per il resto, per il resto sul giocatore, io spero che gli venga, non gli venga messa addosso nessuna pressione, ripeto, sono contrario alle etichette che già sono state belle affisse su questo ragazzo qua, quindi spero che gli si dia modo di giocare quando entri a far parte di una squadra. Sicuramente deve essere supportato e sostenuto, senza ombra di dubbio. Questo, cioè il discorso non esclude questo, il discorso di lavorare meglio, di fare scouting, di magari pensare a qualche giovane, non soltanto giocatori ormai un po' datati. Comunque non significa che quando comunque lo vai a prendere un giocatore poi non lo deve sostenere. Io lo sosterrò, non me ne frega niente, ripeto, del fatto che rideva il gol, tutte cavolate. Ragazzi, quando beccano fior fior di milioni, voi state a pensare veramente che tifino una squadra, i giocatori. È finito quel tempo, il tempo di Zanetti, del Piero, Maldino, abbiamo detto 50 volte, è finito, è finito. Quindi siamo alla merced del denaro, ragazzi miei, o meglio, loro lo vedono il denaro vero. Quindi quando ce n'è tanto si perde tutto. E questo è per quanto riguarda Acerbi, Acerbi, Acerbi. Su Arthur, Arthur stamattina arriva questa notizia incredibile, perché al massimo si dava allo sporting forse, no? A qualche squadra portoghese, no? Arriva la notizia del Liverpool, lo prende il Liverpool, che per un giocatore messo fuori rosa, dici, me coglioni la Juventus, cioè l'aveva fuori rosa, ormai quasi se lo doveva mantenere sul gruppone, lo riesce all'ultimo momento a liberarsi e si libera di una pedina. Me coglioni, come direbbero a Roma, caspiterina, caspiterina, tanta roba. Però poi vado a vedere, nessuno che mi spiega l'ingaggio, se lo paga tutto il Liverpool, se la metà lo paga la Juventus, o se è tutta accroppata la Juve, 60, 40, niente, niente. Tutti, tutti a condivire immagini, visite medio, tutti. Ma poi vai ad approfondire, non c'è uno, parlo anche di emittenti o comunque di fonti abbastanza noti, niente. Solo la notizia, ma poi vai a approfondire e non si sa nulla. E quindi, di cosa devo commentare? Cioè, se lo paga, se il Liverpool si prende Arthur e gli paga tutto l'ingaggio, ad oggi, per com'era la situazione, ti posso dire che la Juventus ha fatto un affarone. Se lo deve pagare comunque la Juventus l'ingaggio, dico che secondo me a questo punto era meglio che stava la Juventus, perché per me Arthur, se giocassi in un'altra squadra, e lo vedremo a Liverpool, io seguo la Premier League e lo seguirò a Liverpool, secondo me in un altro contesto Arthur farà le sue partite. Arthur farà il suo gioco. Anzi, a Liverpool, secondo me farà anche, se avrà minutaggio a disposizione, farà bene. Dico se avrà minutaggio perché a Liverpool, ho visto ieri, gioca un ragazzo di 19 anni. Mentre noi continuiamo con i vecchi, belli, che ci piacciono con le rughe, che se non hanno come me i capelli bianchi e non hanno le rughe, non ci piacciono. Elliot, 19 anni, veterano in mezzo al campo, strepitoso, clamoroso. Quindi vediamo, vediamo. Però per quanto riguarda Arthur, ripeto, io ancora devo capire. Leggevo su TMV, come si chiama, che diceva metà e metà. Forse gol, non voglio fare disinformazione, ma ce n'era un altro che dicevano che lo pagava tutto il Liverpool. Vorrei capirne di più, vorrei capirne di più in realtà. All'ultimo giornata di calciomercato, se ti riesci a liberare di un esubero, perché al momento eravete diventato un esubero, tanta roba. Fermo restando, io resto dell'idea che Arthur in un'altra squadra avrebbe fatto meglio. Io resto di questo pensiero qua, per quanto mi riguarda Arthur. E andiamo su altre notizie poco spettacolari, se preferite, ma comunque d'impatto. Piontek alla Serenitana. Attenzione alla Serenitana che col suo gioco, no? Ne andate quattro alla Samp, se non vado errato. Intanto mi ridevano in faccia quando io l'ho messo nella parte sinistra della classifica, e mi ridevano in faccia quando ho detto che il Monza, se non sta attento, se la deve vedere bene la salvezza. Piontek è uno di quei classici giocatori, a parte se fate il fantacalcio, lo prenderei. Messo nella Serenitana, secondo me i suoi gol può farli, ed è sicuramente un attaccante, ormai possiamo anche dirlo esperto. Ed è questa una bella chiamata da parte del club campano, eh? La Serenitana farà una bella stagione, per quanto mi riguarda, farà una bella stagione. Andiamo avanti ragazzi, che voglio dirvi anche l'altra roba, un altro nome interessante, Pussetto, fatta alla Sampdoria, no? Sampdoria, fatta l'arrivo di Pussetto, come sostituto di... Max, chi cavolo è questo qua? Non lo so. Comunque Pussetto è un altro giocatore interessante. Soprattutto la Sampdoria ha preso anche Wings, me l'ero preso, eh. E Wings è un altro giocatore veramente interessante. Cioè, a Giampaolo sono arrivati bei giocatorini, eh. Sono arrivati bei giocatorini. Questo va detto. Caramò al Torino, cazzarola. Caramò dal Parma va al Toro. Titolo definitivo, contratto da un anno, più altre opzioni, due di opzioni. Izzo e Magnani al Monza. Un po' di gente esperta lì dietro, per quanto riguarda il Monza, che forse è un pochettino troppo vulnerabile lì dietro. Quindi fino all'ultimo aggiunge nomi, sono nomi, la squadra Lombarda. Altri nomi, altri nomi per il Condor. E Magnani, ex Verona, ricordiamo. Viene dal Verona. Izzo, del Toro. Comunque sono nomi che, secondo me, sono interessanti. E poi il Verona. Il Verona che qualcosa doveva fare, onestamente. Ha preso Simone Verdi e ha preso De Paoli dalla Sampdoria. Difficile che il Verona riesca ad emulare il percorso, o a ripetere il percorso, scusate, della scorsa annata, per quello che abbiamo visto. Perdendo quei tre tenori nei davanti. Però, chi lo sa, magari, qualcosina adesso che ha fatto, magari qualcosa farà. Perché io il Verona l'avevo visto male, male, male. Quindi interessante sapere che ci siano questi innesti. Vediamo se c'è qualche altra news, ragazzi, prima di andare a chiudere. Perché sto registrando, sono le sette, un'ora dalla chiusura del calciomercato. Ma solitamente, nell'ultima ora, non succede mai una mazza. Magari adesso, invece, ci sarà l'acquistone. Klaivert al Valencia. Quindi la Roma ha raggiunto l'accordo con il Valencia. Cagliari è ufficiale Falco. E poi, niente, niente di che. Queste sono le ultime notizie importanti. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Anche oggi, ho detto la mia. Voi ditemi la vostra. Un grande abbraccio. Ta, ne eschio.